rai 1 ha trasmesso la pellicola che ha ripercorso la vita dell'indimenticabile franco califano venuto a mancare nel 2013 ad interpretare l'autore di capolavori della musica italiana come tutto il resto è noia e minuetto c'era leo gasman nipote e figlio d'arte nel suo debutto il figlio di alessandro gasman ha saputo interpretare con grande efficacia la vita del califo proprio alessandro gasman ha voluto poi inviare un messaggio dedicato al figlio leo che recita ti amo una dedica che è piaciuta tantissimo agli utenti del web che hanno messo mi piace e commentato positivamente